Quarto giorno consecutivo di presidio davanti ai cancelli della Onewell di Atessa. I lavoratori della multinazionale che produce turbo compressori per l'automotive vanno incrociato le braccia appoggiati dalle organizzazioni sindacali per rivendicare i 420 posti di lavoro a rischio, data la possibilità, nemmeno troppo remota, che lo stabilimento abruzzese subisca un drastico taglio, se non addirittura la chiusura definitiva. Le scorte di produzione da inviare ai clienti Onewell stanno terminando, così l'azienda ha chiesto ai lavoratori di interrompere lo sciopero. D'accanto loro i rappresentanti dei lavoratori chiedono all'azienda di sedersi seriamente intorno ad un tavolo per discutere della salvaguardia dello stabilimento in Val di Sangro. L'azienda ci ha chiesto di revocare lo sciopero. Mi sembra scontato che noi questa cosa non la faremo, nel senso che noi abbiamo deciso di dettare noi le condizioni, non è più l'azienda che può dettare le condizioni a noi. E' ovvio che se si ferma un'azienda che produce dei componenti che poi vengono installati, in questo caso sui motori, prima o poi chi li compra i componenti si fermerà. Ad oggi questo è sì, un fatto che ci interessa, ma non è un problema nostro. L'azienda se non vuole fermare i clienti, torna da noi e discute con noi. Anche l'Udc abruzzese si è schierato con i lavoratori sollecitando tramite il segretario regionale e sindaco di Fossacesi, Enrico Di Giuseppe Antonio, la convocazione di un nuovo incontro al Ministero dello Sviluppo Economico, con la partecipazione dei vertici americani e francesi della Oneiwell per avere sul tavolo un piano di rilancio del sito in Val di Sangro. L'Udc abruzzese ha anche stigmatizzato le giustificazioni sulla sicurezza addotte dalla Oneiwell dopo gli ultimi eventi sismici che hanno interessato l'Abruzzo, che secondo l'Udc non trovano riscontro nella realtà. Quel che invece preoccupa continua la nota e l'intenzione di voler delocalizzare la produzione in Slovacchia.